I difetti più comuni li riassumo in 3-4 punti. Le mani aperte. Molti batteristi suonano con la mano aperta, quindi non c'è una presa solida chiusa. Quando parlo di presa, parlo di una presa che riguarda il set rullante Tom Timpano. Quando parliamo di Charleston di piatto la mano è molto più chiusa, ma molto più chiusa, direi stretta. Quando invece sto sui tamburi la mano deve essere chiusa, ma mai serrata, perché una mano serrata strozza alla bacchetta, la bacchetta non è più risonante, non ha più sustain della nota, quindi ancor meno ce l'avrò sui tamburi. Quindi devo avere una presa chiusa per dare massa, fare massa con la mano chiusa insieme alla bacchetta, quindi dare più peso al colpo, ma mai stretta. Invece molta gente col fatto del finger control fa continuamente questo e questo è veramente la strada sbagliata per avere controllo e precisione. Infatti basta vedere negli anni 70-80 si vedevano continuamente batteristi che avevano questo movimento, adesso se uno va a vedere un solo divinico l'aiuta la mano è sempre chiusa. Dico con l'aiuta ma potrei citare tantissimi altri. Poi ovviamente ci sono le eccezioni, ma tendenzialmente una delle prime cose che faccio è fargli compattare la presa della mano. La seconda cosa è che molti non hanno l'uso dell'avambraccio, per cui stanno con le braccia ferme e lavorano solo di polso. L'avambraccio è molto importante perché ti dà la stabilità della gestione dei colpi. Faccio un primo esempio di una cosa in cui serve, un andamento samba con dei sedicesimi sul rullante. Se io non ho le braccia in movimento, a basso volume non riuscirò mai a essere stabile. C'è sempre il movimento del braccio, se io vado a fare questo di polso non riuscirò a avere la stessa stabilità. Questo riguarda una serie di cose, il fatto del movimento del braccio, ma intanto questa indicazione deve essere un primo punto di riferimento. L'altra cosa molto importante è che i colpi devono partire da dietro e molta gente parte da davanti. Cosa significa? Dei colpi in cui io vedo fare… quando in realtà la bacchetta parte sempre da dietro. E' come dire che quello che noi conosciamo come Meller Technique, con l'uso di spalle e gomito, in realtà per un colpo non troppo forte vale ugualmente anche solo con l'uso dell'avambraccio. Questo movimento qui. Per cui non… quindi queste sono le tre prime cose fondamentali su cui mi trovo a dover correggere la maggior parte delle persone. e ranking self-d 보낸 al nostro corretto, in realtà come condividere la maggior parte del difusino. Direction cosa è124,5263,1603,2003,исл2,2, lindo argentin, 6264, expirezze al